Sono io, Koby. Un momento, mi sposto da un'altra parte. Ok, non preoccuparti. Giusto! Mare! Nebbia. Preciso e attento come sempre. La ringrazio, ma sto soltanto rispettando le regole. Dimenticavo, guai in vista. C'è una cosa molto importante che devo dirle, Capitano Drake. Come hai detto, davvero sono successe tutte queste cose? Sì, Capitano. Purtroppo la situazione è peggiorata. Anche se mobilitassimo altri soldati non cambierebbe. Come abbiamo previsto, la Marina preferisce non intervenire perché non vuole essere coinvolta. E non ha abbastanza soldati. Il lato positivo è che il paese di Wano non è affiliato al governo. Novità sull'arrivo di Big Mom su Onigashima? Sì. Pare che Kaido e Big Mom abbiano un conto in sospeso da moltissimo tempo. La Marina spera che i due imperatori si annientino a vicenda. Sembrerebbe, Kobi. In effetti, fino a poco tempo fa, sia Kaido che Big Mom stavano cercando di uccidersi a vicenda. Ma a quanto pare si sono alleati. Che cosa ha detto? Per quanto riguarda Cappello di Paglia, purtroppo non ci sono notizie di una sua evasione. La situazione è in stallo. Inoltre ti devo dire una cosa. Devi sapere che l'altro giorno nella capitale ho visto la CP0. Eh? Perché la CP0 è a Wano? Preferisco non pensarci, ma... A quanto pare la verità è che il governo sta facendo affari con il paese di Wano. Il quale è sotto il controllo dei pirati. E realizzare la cosa... Mi ha completamente sconvolto. Ad ogni modo, immagino, siate in viaggio. Sì. In questo momento, Capitano Drake, ci stiamo dirigendo verso l'Isola delle Donne. Dobbiamo catturare l'imperatrice pirata. Boa Hancock. Dobbiamo catturare. Dobbiamo catturare l'imperatrice pirata.